Ecco ho una grande notizia e sarebbe non uno ma ben due biglietti per una vacanza da lola ok dove sta l'inganno inganno ma che inganno senti siamo al verde e non credo che tu riesca a tirar fuori due biglietti così da nulla infatti me le regalati amo allora va bene ma questo non è solo il luna deficiente questi qua sono i denju non è vero si adesso come sono belli si guarda quello lì è un sensuale forma lola non puoi aver scambiato pokemon e denju li hai letti quei biglietti no ma che bello il telefono spezzato ma aspetta che cos'è un nokia di quelli vecchi che se lasci cadere si spacca il pavimento non lo so però sto scrivendo cose in giapponese non so avon c'è avon ciao avon no aspetta che cazzo stai dicendo ho già scelto il nome io ma aspetta che sono ancora la schermata allora t'aspetto all'albero che ore sono mezzogiorno e mezza ha ho capito come funziona ok ma sbrigati si sono riuscito e ve lo leggo io per voi mi chiamo cacca andiamo avanti no ma questa questa gurafica non arriva mica da da pukiman soprattutto lo spray vabbè io non c'ho voglia di stare qua leggere quindi fanculo la gente per parlare salta si lo so ma stai zitto vattene via non ti voglio più parlare ma questa non è la cosa cazzo è quella tartaruga o mio dio ehi c'è un science flash però non è a forma lola quindi non va bene mannaggia mi sa che non ci siamo alle hawaii no eh cos'è questo triangolo qua cos'è ma è un polited non lo so però tutto chiaro quello che ha detto ma c'è un ciccioni ah se premi che schifo oddio puoi spostare le cose eh se premi b però distrugge anche l'erba no aspetta no ma questo qui veramente sembra link's awakening fuso a poche no guarda escono i cuoricini dall'erba voglio la pistola no ma questo qua è preso paro paro da eccomi link's awakening che prendi l'oggetto e te ne vai in giro io mi stavo entrando nei peggio meandri dei boschi dove vanno i fattoni devo andare a gottago fest veloce veloce devo andare veloce e comunque questa alola è bellissima ma aspetta ma questo qua è uno dei ballerini di pokemon nero e bianco dove? boh è un tizio con i capelli veri io ho trovato pumba io ho trovato un verme molto no aspetta è un verme con la faccia di il paperino sto cliccando tasti a caso tipo è super rovinosamente infatti game over fottiti no aspetta non ho salvato quindi devo fartelo a capo no 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 io ho quitto la vita ciao facciamo che trovo un salvataggio no ciao ciao ui 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 ui